Questa borsa di studio deve avere due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di onorare la memoria di Filippo Continuo, che è stato uno storico presidente regionale, provinciale in Calabria dell'Unione Nazionale Mutellati per Servizio e per oltre 50 anni ha dedicato la sua vita, la tutela e la rappresentanza degli invaldi per servizio. Il secondo obiettivo è quello di sostenere economicamente gli invaldi per servizio e i figli degli invaldi per servizio nel loro percorso scolastico. Crediamo molto nell'istruzione, crediamo molto nel rapporto che ci deve essere tra le istituzioni e le scuole, per cui ringraziando naturalmente anche la Presidenza Nazionale che ha supportato e autorizzato questo progetto, noi crediamo molto in questo rapporto che ci deve essere tra la scuola, le istituzioni militari e tra tutti coloro i quali badono a noi nel nostro contesto, in Italia e anche all'estero con le varie missioni di pace che ci sono oggi soprattutto in questo progetto. La provincia e la regione hanno sostenuto questo progetto? La provincia e la regione, la provincia e il comune di Catanzaro, la regione ha sostenuto questo progetto con patrocini gratuiti naturalmente e noi già da parte della regione percepiamo un cospicuo contributo per quanto riguarda le nostre attività. Cercheremo adesso di portare avanti questo progetto rendendolo istituzionale e è così da portarlo anche all'attenzione regionale in maniera da poterlo sviluppare in tutte le sezioni dell'Unione Nazionale Mutilate per Servizio della Calabria. Un percorso che si ripete proficuo, virtuoso, che si ripete nel tempo, poi il rapporto con l'attuale Presidente, con Tonino Sabatino, che oltretutto era un nostro efficace e valente funzionario dell'amministrazione provinciale, e oggi in quescenza, sta lì oltretutto a ratificare ulteriormente l'importanza di questo percorso. E oggi, grazie alla sua azione, un'azione di un'associazione che è assolutamente attiva e che segue molto da vicino i propri iscritti, i mutilati e gli invalidi sul lavoro, quindi una categoria importante, una categoria che per via appunto della propria attività lavorativa soffre, ha sofferto e continua a soffrire. E quindi la presenza, l'azione dell'associazione Mutilate e Invalidi sta lì ad accompagnarle. Oggi celebriamo appunto questo momento importante di attività sociale, cioè la realizzazione di un percorso di borse di studio che verrà appunto individuare i valenti figli di questi invalidi che potranno soffrire quindi di questa importante opportunità per agevolare al meglio il proprio percorso di studi e far sì che perlomeno una sofferenza di vita e di lavoro sia calmierata, edulcorata, come dire, resta meno dura ecco, dalla vicinanza di istituzioni nell'associazionismo ma anche delle istituzioni primarie come possono essere l'amministrazione provinciale che seguono questo percorso con molta attenzione quindi siamo onorati di averli qui con noi oggi e di condividere l'avvio di questa importante iniziativa. grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!